Quali sono le opere sulle quali è possibile mettere il copyright? Allora, copyright è un'espressione ormai invalsa nel nostro uso, ma non appartiene all'ordinamento giuridico italiano. A rigore, copyright è un'espressione degli ordinamenti anglosassoni. Noi la utilizziamo più che altro come simbolo, con un valore comunicativo, ma la legge ovviamente non ne parla, la nostra legge parla di diritto d'autore. Copyright serve, dal punto di vista comunicativo, ma potremmo usare anche un'altra immagine, volendo, serve a comunicare l'opera, non è pubblica, non è disponibile per chiunque, non è pubblicabile, utilizzabile liberamente. Questo è il concetto che la parola copyright veicola. Quindi, se la domanda è quali sono le opere proteggibili dalla legge sul diritto d'autore, le abbiamo elencate all'inizio, quindi opere dell'arte, della musica, della letteratura, programmi, banche dati e così via, tutte le opere che sono elencate nell'articolo 2 e nell'articolo 1 della legge sul diritto d'autore. Grazie. 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 Grazie.